Pesaro sott'acqua, lagamenti, esondazioni e frane. Allerta meteo arancione, prolungata anche nella giornata di domani. Furti in sei negozi pesaresi, arrestato un macedone. Nuovo sindaco ad Ancona, ballottaggio Silvetti, Simonella. WL altro flop a Milano, giovedì gara 3 a Pesaro. Buona serata, ben ritrovati al nostro telegiornale. Oggi è martedì 16 maggio e apriamo questa edizione chiaramente occupandoci della preannunciata ondata di maltempo che si è accanita oggi sulla città di Pesaro e su tutto il territorio provinciale, procurando allagamenti, esondazioni, frane e anche alcune evacuazioni di famiglie. Allora partiamo con questo primo servizio. Allerta meteo arancione era stata annunciata e un 16 maggio da tregenda non ha smentito l'allarme. Pioggia ha dirotto nella provincia di Pesaro Urbino, soprattutto nelle ore del mattino. Troppa per essere contenuta da strade trasformate in pericolosi laghi e torrenti. Allagate non solo le strade, ma anche diverse abitazioni, aziende e siti produttivi. Una lunga giornata di disagio alle famiglie e disagio alla circolazione, con tutte le amministrazioni comunali e le forze di polizia pronto intervento, riunite alla sala operativa integrata della provincia e impegnate in forze sul campo per attenuare i disagi che su Pesaro si sono concentrati soprattutto su allagamenti ed esondazioni. Per ora la criticità maggiore è il genica che stiamo evidenziando sul centro della città, il quartiere di Loreto, Muraglia, la zona di Via Belgioioso, diciamo la zona ridosso del torrente genica. Altre situazioni molto critiche le abbiamo registrate già dalla prima parte della mattinata su Villa Ceccolini, su Villa Fastigi, zona del carcere per capirci, la zona di Scavolini della fabbrica, la zona di Santa Veneranda e Ponte Valle. Stiamo cercando appunto di gestire la situazione, di limitare i danni e di dare una risposta ai cittadini che sono in difficoltà. A Pesaro immagini impressionanti a Loreto in prossimità dei sottopassaggi chiusi al traffico e del genica esondato. Chiuso pure il cimitero centrale, allagamenti nella zona della stazione ferroviaria e gravi criticità anche a Villa Fastigi, Villa Ceccolini, nella zona Celletta e di Villa Caprile, in strada Fonte Secco, strada dell'Acqua Buona e zona Roncaglia. Disagi nella zona industriale di Via Toscana e in quella di chiusa di Ginestreto, allagata la strada del Lobby in prossimità del casello autostradale, chiusa via Flaminia per asfalto disastrato da scoppio di tubazioni e cedimento di fognature. Diventato praticamente un lago il fossato di Rocca Costanza. E poi ancora frane e smottamenti in strada Panorami Cardizio e Santa Maria dell'Arzilla, disagi sulla Montelabatese e a Cattabrighe, dove ha finito per arenarsi anche un mezzo dei Vigili del Fuoco durante un'operazione di soccorso. Allerta massima sul livello di piena del Foglia e sull'irruenza del mare sulle spiagge. Mal tempo che ha dato una tregua nelle prime ore del pomeriggio, consentendo anche di intervenire in maniera più incisiva nel deflusso delle acque dalle strade allagate. Il problema è sicuramente gli allagamenti, quindi i sottopassi, quindi la nostra attività con autospurghi per cercare di alleviare queste difficoltà e soprattutto eravamo molto preoccupati dal forte evento che era previsto per il tema dei cassonetti e non solo. Quindi è chiaro che la nostra attività a fianco delle amministrazioni comunali è totale. Uscendo dal comune di Pesero viabilità in tilt per la chiusura delle strade provinciali fra Qualagna e Pergola, fra Lunane e Frontino, fra Casinine e Tavoleto, fra Urbagna e Piobico, così come la strada a Monbaroccese e la Valle di Teva tra Conca e Fogliense. Dopo la chiusura preventiva delle scuole, arrivata nella serata di lunedì su input della prefettura, per tutta la giornata odierna si sono rinnovati gli appelli istituzionali ad evitare di uscire dalle proprie abitazioni in attesa di quantificare i danni a persone e famiglie. Qualche famiglia è evacuata da alcuni comuni, poche persone, però qualcuno c'è a Gradara, soprattutto la situazione è un pochino delicata. Stiamo comunque seguendo, diciamo, da mezzanotte ininterrottamente, abbiamo riunito il CCS, siamo qui dalle 6, insomma, stiamo seguendo tutte le situazioni. La chiusura preventiva delle scuole è stata una scelta quantomai oculata? Io ritengo proprio di sì, assolutamente. Le previsioni erano anche peggiori di quelle di questa mattina, di quello che poi realmente si è verificato, quindi credo che sia stata la decisione più giusta. E continuiamo a parlare di questo argomento. Anche domani le scuole di ogni ordine grado nella provincia di Pesaro e Urbino resteranno chiuse in considerazione dell'allerta meteo arancione che è stata prolungata nel nord delle Marche per l'intera giornata di mercoledì 17 maggio in previsione di possibili precipitazioni consistenti, ma con intensità inferiori a quelle odierne. La situazione dovrebbe poi migliorare attorno alle ore 13 di domani. Intanto oggi l'ondata di maltempo ha chiamato in causa 110 interventi di emergenza dei vigili del fuoco in tutte le Marche, 50 dei quali nella provincia di Pesaro e Urbino. Ed ora lasciamo l'argomento del maltempo sul quale torneremo ad aggiornarvi sia attraverso la nostra emittente ma anche attraverso i nostri social. E andiamo a parlare ora di furti. La polizia di Pesaro ha infatti arrestato il responsabile di almeno sei colpi in attività commerciali di Pesaro andati a bersaglio nelle ultime due settimane. E' stato arrestato dalla polizia un macedone di 24 anni che era diventato l'incubo delle attività commerciali e produttive di Pesaro. Si introduceva di notte da una finestra dalla porta e mirava al fondo cassa o ai soldi dei distributori automatici. Ma rubava anche bici e monopattini. Nelle ultime due settimane le telecamere di quattro attività imprenditoriali lo avevano ripreso mentre faceva razzia di soldi. In una di queste era riuscito a impossessarsi di circa 5.000 euro nascosti nell'ufficio della titolare. Approfittando di una spiccata agilità e velocità era riuscito a sfuggire più volte ai controlli di polizia arrivando a lanciarsi nel fiume pur di sottrarsi agli agenti. Era ricercato da tutti gli uomini delle squadre volanti di Pesaro e la sua fuga è terminata venerdì quando uno degli agenti in servizio all'ufficio prevenzione generale della questura lo ha individuato nella periferia della zona industriale. Approfittando della pioggia si è messo al suo seguito chiedendo il rinforzo di una pattuglia che in pochi minuti lo ha raggiunto e si è appostata per bloccarlo. Questa volta per il giovane macedone non c'è stato scampo. Immobilizzato è stato condotto in questura. Per gli investigatori è coinvolto in almeno sei furti tra cui quello in cui era riuscito a impossessarsi di 5.000 euro all'interno di una ditta che produce bare e accessori per il legno. Sono scattate le manette e ieri è stato convalidato l'arresto con custodia in carcere e avviato il procedimento per espulsione dall'Italia. Ed ora andiamo a parlare delle elezioni amministrative. Sarà infatti il ballottaggio a decidere il nuovo sindaco di Ancona. In nottata sono arrivati i dati definitivi dai seggi per elezioni amministrative dell'unico capoluogo al voto in Italia. Il candidato del centro-destra Daniele Silvetti chiude il primo turno avanti col 45% delle preferenze seguito dal 41,2% di Ida Simonella, candidata di centro-sinistra. Per decidere il nuovo sindaco si andrà al ballottaggio tornando alle urne il 28 e 29 maggio. E cambiamo di nuovo argomento e parliamo di un progetto del liceo artistico Mengaroni di Pesaro capace di abbattere anche le barriere della disabilità visiva. Vediamo di cosa si tratta. Si è concluso dopo tre anni il progetto Art for All che ha visto coinvolte scuole di varie città europee nella realizzazione di opere ispirate a grandi monumenti del territorio per renderle accessibili a tutti grazie a rappresentazioni in 3D, libretti con attività ludiche e promozione dei musei in giro per la città con il Pop-up Museum in cui i ragazzi del liceo Mengaroni hanno cercato di incoraggiare i cittadini ad interessarsi all'arte trovando anche chi, grazie a loro, ha prenotato subito una visita in uno dei tanti musei pesaresi. Art for All è un progetto Erasmus Plus di partenariato scolastico che coinvolge liceo Mengaroni come scuola coordinatrice e ideatrice del progetto e hanno collaborato negli ultimi tre anni scolastici scuole da altri tre paesi europei. il Portogallo, Caldastera e Heina, Ostende in Belgio e Sofia in Bulgaria. Oggi siamo qua con una rappresentanza di insegnanti e studenti delle quattro scuole partner che hanno effettuato una settimana di mobilità qui da noi, ospiti del liceo Mengaroni per arrivare alla conclusione del progetto. Tematica principale del nostro progetto è quella dell'inclusività e dell'accessibilità del patrimonio culturale. I ragazzi qui a Pesaro hanno lavorato su due opere fondamentali del patrimonio pesarese che sono la pala d'altare del Bellini e la medusa del Mengaroni perché un po' rappresenta la nostra scuola. Sì, è un progetto europeo, quindi un Erasmus Art for All, un approccio inclusivo alla fruizione del patrimonio culturale e alle bellezze. Quindi ogni paese ha analizzato opere d'arte diverse ma sotto il profilo di accessibilità all'opera, di fruibilità dell'opera. Cioè i ragazzi hanno ragionato insieme attraverso laboratori, attraverso esperienze, mobilità, incontri, dialogo, confronto su quello che può rendere maggiormente fruibile e accessibile il monumento, il museo, l'opera d'arte. Sono state unite, hanno dialogato quelle che sono state le esperienze di ogni paese, di ogni città e dagli stimoli che sono pervenuti dai vari ragazzi, dai vari studenti, si è creata una proposta da formulare poi anche al comune di Pesaro per rendere più fruibile quello che sono i nostri musei. Hanno svolto tutta una serie di attività di studio, di indagine durante l'implementazione progettuale e poi hanno voluto inventare, proporre e creare degli ausili di accessibilità che verranno nelle prossime settimane donati, resi accessibili proprio presso i mesi ai cibici di Pesaro. E così hanno fatto i nostri partner nei loro paesi europei. Hanno inventato, creato dei modi anche per coinvolgere più persone ad apprezzare, a vivere e a creare insieme l'arte. Perché tutti devono poter godere e fruire del patrimonio nel rispetto di quelle che sono le specificità e le abilità e le potenzialità di ognuno di noi. Ogni scuola ha cercato di aprire le porte dell'arte ad ogni forma di inclusione sociale. Da progetti rivolti ai bambini e ai non nativi della città, al racconto delle storie dei monumenti attraverso la lingua dei segni per non udenti e infine i ragazzi del liceo Mengaroni che hanno permesso di far apprezzare i patrimoni artistici locali tramite l'utilizzo di una stampante in 3D anche a persone con disabilità visive. Posso dire che consiste nella speranza di un futuro. Perché, come ho detto ai ragazzi, loro veramente ci possono far sperare in un futuro di accessibilità e di inclusione. Perché comunque noi fino ad oggi, e parlo della mia generazione, della nostra generazione, non ci siamo occupati, forse non abbiamo capito l'importanza, forse venivamo da altre esperienze. E quindi non abbiamo costruito una comunità accessibile a tutti. Invece un progetto come Art4All, dove i ragazzi si stanno impegnando, dove i ragazzi hanno trovato strategie di inclusione vera, io dico che è veramente il futuro che ci fa sperare in una comunità inclusiva e soprattutto accessibile veramente a tutti. A Pesaro arrivano dieci giorni all'insegna della tutela dell'ambiente con la prima edizione del simposio Stili di Vita Sostenibili, un'iniziativa che ci viene illustrata dall'assessore alla sostenibilità Maria Rosa Conti. Allora, inizia il 22, lunedì 22 maggio, finisce il 31 maggio. Il progetto è uno dei primi obiettivi che mi sono prefissa a inizio mandato, e cioè quello di narrare, perché è una delle due parole chiave, e di far partecipare tutti i portatori di interesse che ci sono nella città intorno a questo tema così importante che è sostenibilità. Ed è sostenibilità non specificamente ambientale, per il motivo per cui la sostenibilità va declinata in tutti i settori. Ecco, gli incontri sono stati pensati affinché in ogni giornata si affronti uno specifico tema. Un tema importante è quello della gestione dei rifiuti, dove vorrei insomma che la nostra città come capoluogo di provincia sia un faro per fare delle proposte. Un altro tema molto importante sarà quello della gestione idrica, idrica in senso di acqua amica più che acqua nemica, ma valgono entrambe le possibilità. Ci sono alcuni momenti clou, oltre al taglio del nastro che sarà martedì mattina, il 23 al Parco Miralfiore. Allora, la giornata per esempio del 24 maggio mattina, e quella del 31 maggio sempre al mattino, è dedicata al racconto, anche qui alla narrazione, delle pratiche virtuose degli enti locali. E quindi sarà una giornata con la presenza di assessori anche da altre parti d'Italia che raccontano le loro progettualità, le loro buone prassi da replicare. Il 31 maggio invece in particolare ci sarà la presentazione del monitoraggio volontario, che è un percorso ideato dalla rete dei comuni sostenibili a cui la città di Pesaro aderisce. Ed è un dossier importante, che è anche validato dalla Commissione europea. Per esempio, invece, domenica mattina c'è una premiazione da parte dell'Associazione Ricrea, che sarà qui per tre giorni, per illustrare come l'acciaio può essere riciclabile, fino alla fine, per tutta la vita. Questo evento si svilupperà in tanti luoghi. Quello principale, che è stato pensato fin dall'inizio, è il Parco Miralfiore, perché tutte le mattine saranno coinvolte le scuole, le scuole primarie, quindi le elementari e le medie, per fare attività didattica, veramente per toccare con mano quali possono essere esempi di sostenibilità nello stile di vita quotidiano. Quindi, ad esempio, anche veramente la compostiera, il riciclo dell'umido. Domani, 17 maggio, Pesaro accoglie la giornata nazionale contro l'omofobia, con due appuntamenti per far riflettere e sostenere il contrasto alle discriminazioni. A mezzogiorno, alla Rosa dei Venti di Baia Flaminia, verrà issata la bandiera LGBTQ+. Alle 17.30 si terrà il convegno. L'uomo lesbo-bitransfobia non è un'opinione. Da venerdì 19 a domenica 21 maggio, Pesaro accoglierà invece la settimana della cultura dell'Uzbekistan e degli amici, promossa dall'associazione Progetto Angeli, un'iniziativa fra Villa Caprile e Palazzo Gradari, promossa in occasione della visita ufficiale in Italia del presidente dell'Uzbekistan. Obiettivo dell'evento è di rafforzare il ponte culturale fra i due paesi, già segnati da un dialogo forte, promuovendone il patrimonio di cultura, arte, musica e moda e le rispettive tradizioni storiche. E continuiamo a parlare di eventi, ma quelli che sono già stati e che sono già accaduti in questo scorso fine settimana è stata infatti un'edizione record, quella del Gran Fondo degli Squali Trek, che questo scorso weekend ha radunato ben 3.000 ciclisti che hanno sfidato il maltempo nelle strade fra Cattolica, Gabice Mare e Tavuglia. Più di 3.000 iscritti. L'ottava edizione della Gran Fondo Squali Trek batte ogni record con migliaia di ciclisti ad affrontare la tre giorni di percorsi da Cattolica a Gabice Mare in una ottava edizione che ha incluso anche Tavuglia nel tracciato. Un successo, quello dell'evento ideato 8 anni fa da Velo Club Cattolica e Ciclo Team 2001 di Gabice Mare, che ha superato anche il meteo inclemente. È una soddisfazione aver fatto partire 1.300 persone sulle 2.000 passa, ma sono degli eroi veramente ed è bellissimo vedere comunque il clima che nonostante le condizioni meteo che quest'anno purtroppo è andata così, l'unica edizione che è sotto la pioggia di queste otto ma siamo soddisfatti perché è andato tutto bene è filato tutto liscio e adesso a festa finale qua sotto la copertura perché naturalmente era necessaria e massima soddisfazione. Saremo ancora più bravi l'anno prossimo faremo ancora più numeri la manifestazione sta crescendo enormemente dal primo anno erano mille sono diventati 3.000 e avanti tutta. L'ottava edizione anche questa mattina nonostante queste condizioni meteo 1.500 persone sono partite i ciclisti sono partiti dall'acquario, dalle navi per fare questo percorso bello per la prima volta credo sotto la pioggia però insomma abbiamo visto veramente ancora l'entusiasmo. Ormai è una manifestazione consolidatissima quindi la Gran Fondo degli Squali ormai tra le prime dieci in Italia è cresciuta tantissimo quest'anno numero record più di 3.000 iscritti oggi il tempo non ci aiuta però noi siamo qua ad aspettarli con i sardoncini la piada e con tutta l'accoglienza che possiamo dare il tempo non è stato clemente però andiamo avanti lo stesso. E vi ricordiamo che potrete vedere il resoconto il racconto completo di Il Gran Fondo degli Squali in uno speciale che Rossini TV trasmetterà giovedì 18 maggio alle ore 21.20 condotto dal nostro Paolo Pagnini ed ora chiudiamo questa edizione parlando di sport in modo particolare della VL che ieri sera è incappata in un'altra severa lezione dall'Armani Milano l'Olimpia ha vinto nettamente anche gara 2 dei quarti di finale playoff con un netto 86 a 57 partita senza storia con la squadra di Repeja che fatica a reggere l'aggressiva forza ad urto di Milano che prende il largo già dal primo quarto e colleziona 18 punti di vantaggio già nel primo tempo la VL non aiutata da un attacco che per la prima volta in stagione va sotto i 60 punti a referto finisce per perdere con un mortificante passivo di 29 punti serie sul 2 a 0 che ora si sposta a Pesaro giovedì alle 20 alla Vitre Frigo Arena servirà una prestazione ben diversa per evitare di congedarsi da questa stagione 2022-2023 e allora vedremo come andrà la partita della Carpegna Prosciutto la VL in casa che giocherà appunto giovedì alle ore 20 alla Vitre Frigo Arena invece questa sera vi ricordiamo che è la serata di Rossini TV dedicata al mondo della bicicletta con il nostro Cycling Land che trovate alle 21.20 e subito dopo intorno alle 22 vi facciamo vedere questa intervista che ho realizzato un po' di anni fa a Fabiana Scavolini dove racconta insomma la nascita ma soprattutto l'evoluzione di questa grande azienda del territorio e poi domani vi aspetto la nostra rassegna stampa chiaramente già da domani alle 7.20 vi daremo in diretta tutti gli aggiornamenti per quanto riguarda il maltempo così come abbiamo fatto anche nella giornata di oggi il consiglio è sempre quello di seguirci domani in diretta ma anche sui nostri social su Facebook e anche sul nostro sito internet e poi domani sera torna una nuova puntata di Amministrando il programma che Rossine TV dedica agli amministratori locali rivolto ai cittadini chiaramente per informare i cittadini appunto su cosa si fa sul territorio allora domani sera faremo questo focus di tanti lavori e si parlerà di tanti argomenti quelli che insomma vedete caldi in questo periodo e tante novità e rivelazioni che ci farà Giuseppe Paolini il presidente della provincia di Pesaro e Urbino ma è anche sindaco di Isola del Piano e siamo arrivati alla fine del nostro telegiornale adesso c'è il meteo continuate a restare in contatto con Rossine TV grazie e buona serata grazie a tutti